A presentare il progetto lunedì sera alle 21 alla Sala della Concordia saranno CNA e Confcommercio, in particolare il presidente di CNA Marco Rossi e il direttore Amerigo Varotti della Confcommercio di Pesaro Urbino. È un appuntamento aperto alla cittadinanza? È un appuntamento aperto alla cittadinanza in cui per la prima volta CNA e Confcommercio, in una condivisione di idee, proporranno un progetto che verrà appunto spiegato poi dal tecnico. Ed è un progetto che appunto fa riferimento in questo caso ad un'idea progettuale da me sviluppata nel 2006 e che poi è stata portata avanti fino ad oggi e che in qualche modo compie i suoi dieci anni in un percorso complesso, ma articolato di un progetto che verrà appunto raccontato alla città e condiviso. Ci può annunciare qualcosa? Il progetto nasce un po' da un'idea che è quella di sviluppare nell'area un centro dell'innovazione marchigiana, che abbia uno sguardo verso la regione e magari anche in una dimensione ionico-adriatica, che sarà supportata da dei servizi che poi verranno puntualmente spiegati durante la serata. E in particolare ci sarà anche un piccolo contributo cinematografico, proprio in ragione di questo lavoro, dato dal caro amico regista Eri Secchiaroli.